Questa è fatta uscire, l'abbiamo schiacciata e fatta ribalzare, adesso la muoviamo dentro un acquario. Cosa succede? Io faccio vum e l'acqua si muove. Quindi le do un input, lei ribalza ed esce il pugno. Ma non devo muovere il corpo perché se muovo tutto parte anche l'acquario. Quindi muovo l'acqua, io mi fermo e dentro l'acqua ribalza. Ok? Se faccio così... Quindi la massa che ho messo in moto in giù, la metto in moto in orizzontale e faccio con il pugno. Adesso mostro a voi cosa farete perché vedo anche il futuro. Guardate me. Dovete sfidarvi dell'inanzia. Lasciate uscire. Ok? Ok?